per me questo video sarà il video che in assoluto verrà condiviso di più e avrà più visualizzazioni sono andato su fingers ho scaricato ho cercato temp sopra la ricerca e ho trovato questo questo modello qua che è un oggetto che viene stampato per il pla c'è anche per l'abs viene stampato per capire come si comporta il materiale l'unica cosa difficile da fare è che pochi sanno è come variare la temperatura mentre sale lo rientro nel modo giusto scelgo innanzitutto i miei parametri e quindi li seleziono subito 0.2 una cosa fondamentale l'altezza dello strato iniziale deve essere uguale all'altezza dello strato normale poi per la parete non ci interessa molto controllate solo che il primo strato sia un multiplo poi il riempimento lo mettiamo al cento per cento perché ovviamente voglio che l'oggetto sia pieno è un oggetto totalmente piccolo poi un test che sto facendo parte da 200 e arriva a 175 di conseguenza parto a 200 potete farlo con ogni temperatura non è detto che bisogna partire per forza 200 comunque io rispetto quello che sopra il file è stato creato salvo il file dove lo salvo lo salvo sul mio desktop lo chiamo prova materiale PLA variazione temperatura ok lo salvo cosa fare faccio doppio click sul mio gcode o comunque tasto destro apri con bloc note e vediamo subito che cosa andare a variare il valore che fa partire diciamo l'estrusore è questo è M104 M104 attiva e fa capire che stiamo dando un valore all'estrusore e S200 è la temperatura allora noi che cos'è che facciamo per cambiare la temperatura ctrl c copio questo valore qua so che io parto da 200 per arrivare a 175 vado su cura vado sull'impostazione visualizzazioni per strato e vado a beccare quello che è il primo strato dove voglio che si modifichi il primo strato è lo strato dove voglio che cominci l'altra temperatura è questo cioè da qua in poi a me interessa che faccio a 200 questa astina qua dopo dopo un po cambio e voglio che la temperatura sia da 200 a 195 allora io vado qua prendo a livello 71 71 x 02 z 14.2 clic ok mi trova il momento in cui è a z 14.2 qua io voglio che il mio estrusore cambi cambi la temperatura e quindi do uno spazio e inserisco questo valore però metto S195 195 ok qua sono a posto poi voglio che arrivare al 190 vado su l'altro strato quando finisce la mia stina 115 z 23 trova successivo mi trova successivo al livello 113 c'è il mio z 23.1 il motivo per cui io non cerco il livello ma cerco l'altezza è proprio questo che non capisco come mai ma qua lui mi dice che è al livello 115 invece se cercassi qua layer 115 mi troverebbe due layer dopo quindi cercate sempre la z fatto questo inserisco qua questo valore M 104 S 190 questa volta 190 qua la mia temperatura diventa 190 z vado a cercare 33.6 e lo trovo successivo questo valore mi trovo questo valore mi trova il primo valore che corrisponde a quello che scrivo se scrivo ciao lui cerca tutte le cose che hanno ciao ma qua in questo caso non la troverebbe e scrivo 185 vado ancora all'interno del mio cura salgo 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 216 x 0,2 che ricordo è sempre all'altezza del mio strato e 43.2 se volete fare le cose in modo preciso dovete assolutamente ricordarvi di utilizzare una altezza del vostro livello iniziale uguale a quella che è l'altezza del vostro livello in generale vado sempre dopo layer inserisco e scrivo 180 la temperatura verrà sempre attivata ma sarà 180 la s sta a significare che la potenza di quella che sto facendo per esempio se non mi ricordo male m 106 alla ventilazione quindi se scrivesse m 106 s 255 attiverei anche la ventola 255 control t z 53 collo e scrivo 175 questo qua è il mio ultimo valore della temperatura ok posso chiudere qua ho impostato tutto quello che serve all'altezza che io ho cercato e che ho voluto ho diminuito la temperatura per fare il test di temperatura del pla potete farlo anche per l'abs utilizzerete dei valori in proporzione più alti ora cosa faccio importantissimo questo questo passaggio qua faccio file salva con nome e vado su tutti i file salvo tutti i file vado qua e punto gco vado sul mio desktop lo salvo e così facendo ho realizzato il mio profilo alzandomi in z ho modificato la temperatura di stampa se questo video ti ha sorpreso mettici sotto un bel commento voglio interagire sempre di più con le persone voglio sapere cosa pensano alla prossima la 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 prossima